benvenuti da viral in questa nuova puntata di piemonte fantasma quest'oggi continuiamo la visita al castello infestato di manta di saluzzo quelli che state guardando in questo momento sono alcuni dei trofei di caccia della famiglia imperiale il pianoforte nella rispettiva sala da ballo data la grandezza un semplice corridoio beh immaginatevelo di sera anzi di notte una camera da letto quella in fondo al corridoio la visita non finisce qui presto continuerà e chissà quali cose strane sono riuscito a trovare nei sotterranei restate sintonizzati per scoprirlo a presto da viral